Il peso di un tir. Tutti mi dicevano che fumavo troppo. Una sera di agosto avevo cenato con un po' d'insalata di pasta, melone e un gelato al caffè. Dopo mi sistemai sul divano per vedere in televisione le ultime notizie sportive, come faccio ogni domenica sera. Avvertì un tonfo sordo al braccio e subito dopo sul petto il peso di un tir. Poi mi trovai a guardarmi dall'alto e vidi il mio corpo su una barella. Mi ritrovai in una galleria sconfinata, foderata di luce, che percorrevo a una velocità vertiginosa. Viaggiavo verso una luce abbagliante e bellissima. Mi sentivo benissimo e non avevo più il tir sul petto. Non camminavo né correvo, ma galleggiavo a una velocità che mai avrei creduto possibile. Mi trovai in un giardino luminoso dove le piante, le nuvole e gli esseri che assomigliavano a delle persone erano scintillanti. Vedi un sacco di figure che non conoscevo e tentai di parlare, ma non avevo voce. Eppure mi capivano e anch'io capivo loro. Mi dissero che non era il momento di restare lì e che la mia vita era ancora da vivere. Io non volevo tornare, il luogo era così bello che mi sembrava di avere sognato. Poi capì dell'infarto e mi rattristai. Rividi la galleria foderata di luce e stavolta la percorsi senza felicità. Mi ritrovai sul lettino dell'ospedale e piangevo perché non sarei voluto tornare. Ai medici non dissi nulla, ne parlai solo a mia moglie e mio figlio, che non mi capigro non. Grazie a tutti. Grazie a tutti.